Da questa mattina a Pescara c'è un originale calendario sul Palazzo del Consiglio regionale. Vogliamo spiegare di cosa si tratta e il perché di questa iniziativa? Sì, c'è un più e c'è il corrispondente numerico che oggi è più uno, domani sarà più due e così via fino a quando finalmente non partiranno i lavori di apertura della diga foranea. Noi siamo all'assurdo, sono opere in quota parte finanziate e in gran parte anche appaltate che non partono alla vigilia di un'altra stagione della balneabilità del nostro mare travagliata. Perché? Perché le procedure per far partire queste opere sono contenute all'interno di un piano regolatore portuale che ancora vede la luce e che fin qui ha prodotto solo incarichi costati molti soldi alla collettività per rispondere alle giuste osservazioni formulate sul piano stesso. Fino a quando non si approva il piano le opere e i lavori non partono e fino a quando non si apre la diga foranea il nostro mare sarà sempre strutturalmente a rischio di livelli di inquinamento che non garantiscono la balneabilità. Allora noi non riusciamo sinceramente a capire dopo quasi due anni di governo di centrosinistra della città di Pescara e della regione Abruzzo come non si possa comprendere che la priorità per questa città, per la sua provincia e per le città vicine a Pescara è che il mare sia pienamente balneabile. E la priorità è l'apertura della diga. Allora con quel calendario noi speriamo di stimolare giorno per giorno a ricordare qual è la priorità delle cose serie da fare, ovvero aprire la diga foranea.